Ancora buonasera a tutti da Marcello Bassi dopo aver inserito la micro sim c'è bisogno di inserire anche la micro sd pertanto andiamo ad analizzare come si inserisce la micro sd Come al solito apriamo anche abbastanza violentemente la nostra cover posteriore del note edge perché come quella del note 4 e di tutti gli altri dispositivi samsung è molto resistente e andiamo ad inserire nel nostro caso una micro sd tracend da 32 giga classe 4 Vediamo che l'alloggiamento è posizionato a lato della fotocamera del flash del sensore di battiti cardiaci e va inserita così rivolta verso il basso chiaramente con i contatti dalla parte del telefono e con la forma in questa maniera Spingiamo la fila in fondo e basta Anche per questo video è tutto un saluto da Marcello Bassi forumbals.info Ciao Anche per questo video è un saluto da Marcello Bassi